I laboratori attivati alla Casa del Sole nascono fondamentalmente dall'esigenza di offrire a bambini e ragazzi la possibilità di misurarsi con il fare concreto. Per molti di loro l'essere affetti da ritardo mentale ha come conseguenza l'incapacità ad accedere ai piani del simbolico ai piani quindi del pensiero astratto ed ecco quindi la necessità di misurarsi con il fare con la realizzazione di oggetti e di piccoli manufatti. Fra tutti i laboratori quello di argilla è particolarmente gradito ai ragazzi perché l'argino materiale estremamente versatile può essere riutilizzata nel momento in cui si dovesse fare un prodotto che non è all'altezza delle esigenze, delle aspettative e quindi può essere riutilizzata all'infinito fino a quando non viene cotta. L'attività di lavorazione dell'argilla è un'attività che consente ai ragazzi non solo di sperimentare e ideare quello che vogliono realizzare ma consente anche a loro di acquisire una sequenzialità nella operatività e nell'operazione che viene svolta. Per molti ragazzi è rassicurante sapere che cosa fare prima, durante e dopo e oltre ad avere questa funzione di rassicurazione l'attività ha anche proprio lo scopo di aiutare il ragazzo a organizzare il suo pensiero. Grazie a tutti! Grazie a tutti!